7 milioni di euro evasi sono quelli scoperti dalle fiamme gialle di Arezzo nell'ambito di un'operazione rivolta principalmente agli antinoprofit. Sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza di Arezzo, associazioni culturali, turistiche e di ristorazione, sportive, gestori di palestre mascherate secondo le fiamme gialle aretine, da enti senza fini di lucro, con l'unico obiettivo di evitare il pagamento delle imposte ed usufruire così di un regime di tassazione agevolato. Gli accertamenti hanno però dimostrato la natura commerciale degli interessati con conseguente esclusione del diritto ad usufruire del previsto regime di favore. Le attività ispettive svolte dai finanzieri hanno consentito così di scoprire cinque evasori totali, nonché di denunciare alla Procura della Repubblica cinque soggetti per aver emesso fatture per operazioni inesistenti ed aver occultato e o omesso di presentare le previste dichiarazioni. Complessivamente sono stati individuati come sottratti all'erario ricavi per 7 milioni di euro ed un'IVA dovuta per oltre 1 milione e 200 mila euro, nonché l'IRAP dovuta per circa 300 mila euro. La maxioperazione ha avuto come unico fine quello di smascherare i cosiddetti furbetti del no profit e combattere l'evasione dell'illusione fiscale reprimendo così fenomeni di concorrenza sleale. In provincia di Arezzo il settore del no profit ha registrato nell'ultimo decennio un incremento sia in termini di iscrizioni pari al 20% che occupazionali, più 40% a fronte di una generale flessione delle imprese ordinarie.